Bene, ringrazio le migliaia di fans che mi hanno scritto, soprattutto i tre amici che mi hanno scritto, dichiarando fermamente e controfirmando che sono io l'unico professore maritano. Sembra che giro per la rete e internet ci sia un imbonitore che sta cercando di copiare le mie idee, di fare lo stesso progetto mio, insinuando poi con un accento un po' nordico le sue attitudini metriche e poetiche, enunciando che lui sembra di essere il professore mediano. Lo ripeto e lo dico, sono io l'unico, anche se fondamentalmente sono un professore del Sud, il mio accento è dovuto anche a una grande esperienza qui nel territorio, bando alle ciance e vado avanti col canto trentunesimo, ovviamente voi cari amici mi dovete continuare a scrivere perché fondamentalmente rimango l'unico. Abbandonato il professore Pissone, eccomi qui in cui io vi dico fermamente che interrotta dall'amara disgressione di Beatrice alla fine del canto precedente, la descrizione dell'Empirio riprende su un tono apparentemente semplice e discorsivo, ben rilevato nella presenza nel verso primo dell'avverbio dunque, ecco, con un'immagine riassuntiva di quando il poeta è venuto finora rappresentando la sorrosa sempiterna occupata dal convento delle Bianche e Sole, che vi avevo già spiegato nella puntata precedente, che appare di un candore abbaiante, infatti era tutto apposta. Ma sull'immobilità e sul silenzio del gran fiore si sovrappongono per il perso molte domande, infatti ci sono state anche molte interrogazioni. Con l'impeto di una vita varia e multiforme, il movimento e il canto degli angeli, così che le due figurazioni fondamentali nel discorso poetico del paradiso è quella improntata a una pace solenne, a una fissità estatica, è quella scandita da un fervore incessante, da un movimento fervido, concorre in qual misura a precisare, e ovviamente, attraverso un'immagine e un ritmo dell'esperienza beatificando l'anima a contatto con il divino. Nell'immobilità dei beati e nell'immensa legione angelica che volando e osannando si fa intermediare dei beatiudine fra Dio e i suoi letti, troviamo la visione sensibile di ciò che Dante ha esclamato all'inizio del canto ventisettesimo di fronte alla gloria dei beati che non se ne erano nemmeno accorti perché stavano così beati che si erano quasi appisolati. La rappresentazione concreta che racchiude tutto il valore della vita paradisiaca come egli l'ha concepita ed espressa nel verso, una vita eternamente sicura dove la pace più alta si fonde a un continuo fervore d'amore. Bene, un attimo solo. Grazie a tutti.